Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo short. Oggi sono qua solo per dirvi di seguirmi su TikTok. Ebbene sì raga, dopo un sacco di tempo ho aperto un mio profilo TikTok. Come primo TikTok vi ho mostrato la Blue Box Edition di Blue Box. Quindi se vi interessa andatela a vedere, in ogni caso seguitemi perché porterò diverse cose interessanti. Come argomenti varierò un po', sicuramente ci sarà roba inerente al canale e anche altre cose, quindi seguitemi anche per altre cose. Magari qualche TikTok lo farò anche in compagnia, chi lo sa. Voi comunque andatemi a seguire, mi chiamo sempre MachiML oppure Marco Accia-Basso. Comunque ve lo lascio magari qua in descrizione e vi metto anche la foto, ve lo scrivo insomma qua nello short. Detto questo ragazzi, seguitemi, iscrivetevi anche qua sul canale di YouTube se non siete iscritti. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga!